Avete messo troppo alto e ci sono anche le donne basse Questa sarà l'unica lettura soft dell'antologia ombre, quello che vi aspetta dopo Comunque, questo è un piccolissimo brano tratto dal racconto alla piramide di Cristallo Grazie, che gentile Buon samaritano E stamattina, tesoro mio, ho una grande novità Ho conosciuto un tizio che sembra fatto apposta per te Ah sì, e dove? All'Ios, forse? Un vedoco con problemi di prostata? No, mia cara, su Facebook Ma sei impazzita? Innanzitutto detesto i social network e poi in rete conosci solo sfigati Stavolta è diverso, te lo assicuro, fidati del mio intuito Guarda, se non fossi sposata ci uscirei io L'ho conosciuto sulla bacheca di quello scrittore bolognese di cui ti parlo sempre Alessio Bertelli Quello simpaticissimo che cazzeggia già alle sette del mattino Ecco, è un suo amico O comunque un suo contatto Scrive pure lui Non ho capito bene cosa Appena pubblicato un romanzo La gabbia Comunque, è molto spiritoso ed è anche attraente Insomma, un gran figo Gli ho parlato di te e... Beh, è rimasto folgorato E vuole assolutamente conoscerti Matilde Non se ne parla proprio Grazie Grazie Grazie